Ciao, sono Valerio Novar. Una delle sorprese forse meno aspettate di queste nomination agli Oscar è sicuramente il film Netflix Niente di Nuovo sul fronte occidentale, un film di guerra e di produzione tedesca che ha ricevuto ben nove nomination, tra cui Miglior Film, Miglior Film Straniero, Miglior Fotografia. Insomma, è un film che ci ha stupito quando abbiamo letto le nomination durante la nostra live per gli Oscar e che, insomma, si impone nel panorama dei film che potrebbero ambire a diverse statuette in prossimità, in vista della notte degli Oscar, che ci sarà il 12 marzo. È un film tedesco, dicevamo, che potete trovare su Netflix e che dura due ore e mezza, circa. È tratto da un libro, da un romanzo che personalmente credo che debba essere letto nelle scuole perché parla di uno spaccato importante della Prima Guerra Mondiale e che parla di questi ragazzi appena diciottenni. Una cosa che avvenne veramente, tra l'altro lo scrittore è uno di quelli che si arruolò nella Prima Guerra Mondiale e che avvenne veramente sia in Germania che durante, insomma, anche in Italia, ragazzini di 18 anni che vennero obbligati a prendere le armi per andare a combattere con delle baglionette contro un nemico che invece aveva, insomma, le mitragliatrici. E quindi mandai a morire. È una grande critica, il film è una grande critica verso la politica dell'epoca e ci dà uno spaccato importante sull'assurdità della guerra e in particolare della Grande Guerra. È un film che parla, insomma, di questi ragazzi e questi compagni di scuola che tutti contenti, felici, vedono la guerra come una cosa romantica, insomma, non vedono l'ora di andare a combattere, cantano canzoni patriottiche e il film inizia con... va increscendo, insomma, si vedono questi ragazzi che prendono le loro uniformi e che vanno a combattere sul fronte occidentale, questo famoso fronte occidentale che è praticamente, insomma, la parte della Prima Guerra Mondiale, dove si scontrarono più che altro la Germania e la Francia su una trincea, una trincea lunghissima e fu una battaglia che durò anni e anni, ma in cui non si mossero di pochi centimetri, cioè la guerra cambiò poco in quella parte d'Europa, ma ci fa capire quanto... quante persone siano state mandate a morire per conquistare territori di pochi chilometri e quindi che non permettevano alle milizie di avanzare e di andare a conquistare Parigi. Si sente spesso questi ragazzi che dicono sì, arriviamo a Parigi, conquisteremo Parigi e invece la Germania non riuscì a sfondare la linea nemica e per gli anni della Prima Guerra Mondiale si trovò in netta difficoltà e questi ragazzi quando vengono mandati al fronte si rendono conto delle atrocità e delle difficoltà della guerra al freddo, nel fango, con le persone insomma che morivano intorno a loro e non era quello che avevano immaginato quando si erano arruolati. Ho trovato questo film davvero bello dal punto di vista tecnico, anche perché credo che abbia una delle migliori fotografie che abbia mai visto e in particolare nei film candidati agli Oscar e credo che se la possa giocare soprattutto dal punto di vista della fotografia e del sonoro. Mi ha ricordato molto il film di Sam Mendes 1917 che insomma abbiamo visto pochi anni fa, anche perché oltre a trattare uno spaccato della Prima Guerra Mondiale lo narra dal punto di vista di questi ragazzi che vengono buttati in mezzo insomma a questa trincea, a questi campi di battaglia e non si rendevano conto fino a che insomma non l'hanno vista di quanto fosse assurda e atroce la guerra e sono arrivati insomma a sparare contro la stessa umanità che predicavano all'inizio, con cui erano cresciuti, con tutte le aspettative, sono andati contro tutte le aspettative che gli avevano dato insomma la società e la cultura dell'epoca. Per quanto riguarda le interpretazioni ho apprezzato le interpretazioni degli attori anche perché queste produzioni tedesche volevo aprire una parentesi sul cinema e le serie tv tedesche si stanno imponendo nel panorama internazionale e l'abbiamo visto già dai tempi di Dark, della serie tv Dark su Netflix, insomma fatta benissimo sia dal punto di vista della regia, della fotografia ma anche della sceneggiatura, è una bella serie tv che vi consiglio di recuperare se non l'avete fatto e questo è un prodotto tedesco che a tutti gli effetti si annovera insomma nel campo dei migliori film dell'anno. È un film che è aspro, crudo, ti fa vedere insomma ci sono anche scene molto cruente e questo è per catapultarti anche grazie ad una colonna sonora davvero particolare che ti porta in mezzo al campo di battaglia e queste urla, questi spari, questo sonoro efficace che ti trasportano dall'inizio in cui c'è questa anche cosa divertente di andare in guerra come fosse una cosa bella, andiamo a combattere, a uccidere i nemici e poi questi ragazzi che si rendono conto insomma che c'era solo morte e crudeltà e non c'è nulla di buono nella guerra. Anzi, la colonna sonora insomma il compositore insieme a buon vecchio Hans Zimmer racconta che per estrapolare i tratti salienti di una colonna sonora che è molto particolare perché non ci sono, ci sono per esempio questi rulli di tamburi in alcune scene in cui non ci sono gli spari e lui l'ha messo apposta per dare anche un senso di musicalità all'interno delle scene in cui non ci sono le bombe e non ci sono gli spari Hans Zimmer invece ha detto dimmi la storia, è andato dal direttore della fotografia dimmi i colori che userai e ti comporrò la insomma la colonna sonora. Il compositore è tedesco e ha ripreso dai Led Zeppelin, pensate, questi rulli di tamburi e queste insomma tonalità musicali che possiamo udire all'interno per tutto il corso del film insomma. E un'altra cosa interessante è che questo film esce in un momento molto particolare perché insomma come tutti sappiamo c'è la guerra in Ucraina e questa cosa della trincea e di mandare giovani a morire in trincea mentre i leader sono protetti, nascosti nei loro bunker, è una cosa molto attuale, rimanda molto alla realtà che stiamo vivendo oggi anche perché è una critica aspra nei confronti dei politici e della politica anche di questo momento storico che sfrutta la guerra e sfrutta questi ragazzi anche spesso ignari di quello che avverrà al fronte per un proprio tornaconto personale e soprattutto per non perdere la faccia. Quindi è un film molto attuale e credo che sia anche per questo motivo che abbia ricevuto tutte queste candidature agli Oscar anche per insomma dare un segnale forte nei confronti di quanto sia stupida e assurda e inutile la guerra. È un film che ti porta fino alla fine non solo sul campo di battaglia ma che esplora da vicino un momento molto preciso della prima guerra mondiale che è la fine, è il momento dell'armistizio, è quando la Germania insomma firma davanti alla Francia l'armistizio e viene deciso che l'armistizio ci sarà alle 11 dell'11 novembre del 1918. Che cosa succede? Questo viene firmato quasi un giorno prima. Fino alle 11 dell'11 novembre nonostante la voce si fosse sparsa e nonostante i generali sapessero che era stato firmato l'armistizio e che quindi la guerra sarebbe finita molti giovani continuarono a morire e fu una delle cose più tremende della prima guerra mondiale perché è vero che molti giovani anche fino all'ultimo secondo morirono addirittura 3.000 persone nelle poche ore che rimanevano fino allo scoccare di quelle famose 11 dell'11 novembre. Quindi è un film che ho apprezzato tantissimo e che ci fa ragionare e secondo me è un balletto anche il libro e bisognerebbe davvero proporlo nelle scuole italiane. Tra l'altro il libro era stato censurato sia da Goebbels dal nazismo dopo la prima guerra mondiale, dopo la sconfitta della Germania, la pesante sconfitta insomma della Germania dopo la prima guerra mondiale, venne messo a rogo e anche Mussolini in Italia negli anni 30. Lo insomma lo censurò e venne poi riletto nel 45 e fece un grande successo internazionale. Io vi chiedo se a voi è piaciuto, se è un film di guerra che merita tutte queste candidature agli Oscar. Mi aspetto almeno un paio di statuette. Peccato forse averlo inserito come miglior film straniero però insomma non si poteva fare altrimenti anche perché è una produzione che non è statunitense quindi probabilmente andrà a massacrare tra virgolette tutti gli altri pretendenti come miglior film internazionale. Forse miglior film dell'anno non lo so però insomma tratta argomenti attualissimi e come vi ho detto è in netta prospettiva con quello che sta succedendo in Ucraina e nella diatriba fra Russia e Ucraina ma più facendo discorso più largo fra Russia e occidente. Ditemi cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al nostro canale youtube, c'è a che azione se ancora non l'avete fatto, seguiteci su facebook e instagram per restare aggiornati su tutti i nuovi video e le nuove news legate al mondo del cinema. Al prossimo video!